Gentili telespettatori, buona giornata. E la frase ascoltata al Quirinale contro i giornalisti. Che cosa avrà detto mai la Premier contro questi giornalisti? Adesso ve lo racconto. Bene, c'è la festa della Repubblica, quindi vengono invitati tutti i politici al Quirinale. C'è anche Giggino Di Maio O'Grande che è rientrato dalla porta principale con un bel 20.000 euro al mese per fare l'emissario, il commissario, l'inviato, l'inviato specialo dell'Europa nel Medio Oriente, paesi arabi per petrolio e gas. Se voi direte, ma lui è un esperto del settore? No. Sa l'arabo? No. Sa l'inglese? Insomma. E allora il curriculum che han detto che era perfetto per fare questo lavoro, in cosa consiste questo essere perfetti nel suo curriculum? E che era amico di Borrell ed è stato raccomandato da Draghi. Va bene, chiudiamo questa parentesi. È così che funziona il mondo. Se ancora non l'avete capito, non funziona per il merito. Funziona per tanti altri motivi. Quindi, si ritrovano tutti a casa di Luca, che si vede anche il mare, diceva una canzone. No. A casa di Sergio si vede, panorama, si vede tutta Roma. I giardini della Presidenza della Repubblica. Quindi il Palazzo del Re. In Italia è quello lì, il Palazzo del Re. Una delle residenze più grandi d'Europa. Forse la più grande d'Europa. A 110.000 metri quadri. 110.000 metri quadri. Va bene. Comunque sono tutti lì. C'è anche Roberto Fico, l'ex Presidente della Camera. Non ha un ruolo, ma viene invitato. È rimasto il riflesso della terza carica dello Stato. Quindi viene invitato anche lui. E si è sentito ancora importante. E vabbè, poi, insomma. Ci sono proprio tutti. Mattarella, Draghi, Vittorio Sgarbi. Battute, scherzi. Sgarbi dice a Mattarella. Presidente, sei stato fantastico sul libro della Roccella? Mattarella dice. Un libro è un libro, come dire. Che cavolo. Nel senso non si può impedire una presentazione di un libro e poi difendere pure quelli che impediscono le presentazioni dei libri. Ecco. In seguito la stessa Ministra avrà modo poi di ringraziare anche Mattarella personalmente per le parole della scorsa settimana. perché Mattarella non è un mazzolatore solo del centro-destra, ma quando la sinistra ne combina, le dice anche la sinistra. Quindi c'è Ignazio la russa, Lorenzo Fontana con consorti al seguito e poi c'è Meloni in giacca beige ricamata, pantaloni in tinta e decoltè con Swarovski. Spero che non siano state ricevute il regalo da quella là che si faceva rimborsare gli Swarovski con i soldi dei contribuenti. Meloni, non è che te l'ha regalato quella là? Spero di no, dai. Speriamo che le abbia comprati lei e non gliel'abbia regalati quella condannata un anno e sei mesi per peculato. Con un bello Swarovski dice, oh mamma, oh mamma, accompagnata da Andrea Giambruno, il first gentleman, il primo uomo d'Italia. La first lady, lui è il first gentleman. Un brindisi alla Repubblica, dice la Meloni, che alza il calice, non è che siamo in chiesa, ma alza il calice con Mattarella. Fontana è la russa. Quindi il gota, capo dello Stato, vicepresidente della Repubblica, la russa, Fontana, terza carica dello Stato e capo del governo. I quattro calici che si alzano, un brindisi alla Repubblica. Mattarella e Meloni si sono intrattenuti per diversi minuti in conversazioni anche con il presidente della Corte Costituzionale, ammirando la vista su Roma. Meloni dice, guarda, c'è Monte Citorio, là c'è il mio ufficio. Va bene, poi, la Meloni, ogni metro, si ferma perché la salutano tutti. C'era la coda anche per salutare il leggendario presidente del Consiglio. ci sono tutti diplomatici manager e giornalisti e la Meloni dice sono degli origliatori seriali. Origliatori seriali. Cos'è un origliatore? Uno che ascolta. Ma è ovvio, dai. Vabbè, la Meloni scherza, sono degli origliatori seriali. Ricordiamo che anche la Meloni è giornalista. Adesso non so se è ancora iscritta all'ordine dei giornalisti o no, però la Meloni, come anche se non sbaglio Salvini, sono giornalisti e quindi fanno parte di questo gregno, chiamiamolo così. Il giornalista che è presente lì ha l'orecchio teso a captare le mezze frasi per poi far fare gli articoli ai loro giornali e vendere le pubblicità. Insomma, il lavoro del giornalista è quello, l'origliatore seriale, no? Ognuno ha il suo lavoro. Ecco. Bene. Vabbè, c'erano poi tutti Piante, Dosi, Giorgetti, Lollo, Lollo Brigida, Arianna Meloni, che è la moglie di Lollo, che è la sorella di Giorgia, Gennaro, non Gennaro Papparone, ma Gennaro San Giuliano, Andrea Odobi o Abodi, non l'ho mai capito, Abodi, Adobi, non lo so, Elisabetta Casellati e poi c'è Giorgio Mulè, vicepresidente di Montecitorio, Fabio Rampelli, Anna Scani e poi gli ex presidenti del Consiglio, Monti e Dini. che non è la Ferrari Dino. Poi c'è anche Ellie, ti presento Schlein, in tagliore pantalone nero, accompagnata da Chiara Braga. Tutte e due hanno gli stessi colori, forse si sono messi d'accordo. Guarda che la mia armacromista ha detto se andate in giro insieme mettetevi in pandan, va bene. Poi c'è Veltroni, Rutelli, D'Alema, Luciano Violante, poi dicono premio eleganza, modello numero 5, Mara Garfagna, in abito rosso lungo, intonato con le suole della Louboutin, che non so cosa siano però. E poi abbiamo anche Gigino Di Maio, o Ministro, nuovo inviato, saluta tutti i ministri, si intrattiene con i parlamentari e i sottosegretari del centrodestra. Saluta il presidente della regione, lui è già integrato, lui è già pronto per le prossime sfide. Gigino Di Maio, o Ministro. Grazie a tutti e arrivederci a presto.